Nessuno sta parlando dei Bitcoin posseduti dall'America. Quindi, eccoti tre cose che devi sapere. Quanti Bitcoin detiene l'America? Come ha fatto ad ottenerli? Come impatterà la loro vendita sul prezzo di Bitcoin? L'America detiene circa 194.000 BTC per un valore di 7,7 miliardi di dollari. Questi Bitcoin sono arrivati nel wallet degli USA dopo tre sequestri effettuati in ambito delle cause criminali, tra cui 94.000 sono stati sequestrati nel gennaio 2022 dall'act di Bitfinex del 2016. Altri 69.000 nel novembre 2020 da Silk Road. Ed infine 51.000 BTC sequestrati all'hacker di Silk Road, James Zong. Un po' di questi Bitcoin sono già stati venduti. Il governo americano ha messo all'asta Bitcoin in passato. Infatti nel 2014 Team Drapper si è accapparato circa 30.000 BTC. Più recentemente ha anche venduto 9.000 Bitcoin nel marzo 2023 tramite Dexchange ed ad oggi vuole venderne altri 2.900 appartenenti alla storia di Silk Road. Quest'ultima vendita potrebbe non avere un impatto clamoroso sul prezzo visto che anche Steven Lupka, CEO dell'Exchange Swan Bitcoin, ha dichiarato che questa vendita è noccioline rispetto ai deflussi di Bitcoin da GBDC che erano quattro volte superiori.